...e i nostri colori, alla competizione che si svolta a Stoccarda. Qualsermin? ...e il tuo futuro, e giustizia sarà fatta per tua mano, contro un figlio spietato e corrotto. Un comandante si ritroverà schiavo, e un schiavo diventerà la diattore. E attraversando le terre il dolore, sfiderà anche l'imperatore. Alessandra Giada, tutti sti maschi che sfidano il caldo con un frac nella giornata più calda dell'estate meriterebbe un applauso in più, eh! ...e... 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 ...e...